di parlare la senatrice Cantune a facoltà per dieci minuti. Grazie Presidente. Abbiamo ascoltato delle gran belle parole, dette anche molto bene, ma assolutamente lontane dalla realtà. Ne ci pare che stiate facendo tesoro di quanto abbiamo e vi abbiamo ripetutamente sottoposto in tutte le circostanze nelle quali abbiamo avuto occasione in materia di proroga dello stato di emergenza. Sono ormai nove mesi e anche un parto difficile dovrebbe giungere a conclusione, cosa che invece con la richiesta di proroga tutto il gennaio 2021, palesate che questi nove mesi sono trascorsi inutilmente, posto che non c'è nessuna evidenza di avere trasformato in procedure concrete e ordinarie quanto inizialmente avrebbe potuto essere giustificabile affrontare in regime di procedure straordinarie ed emergenziali. A luglio, quando ci avete proposto di prorogare lo stato di emergenza, vi avevamo in chiave di cooperazione e non di competizione, rinnovato l'indicazione del percorso da intraprendere. Il piano di prevenzione, preparazione e contrasto dell'eventuale recrudescenza epidemica, nel quale avrebbero dovuto essere disciplinate e ben esplicitate le procedure per affrontare in modo tempestivo ed appropriato tutte le azioni ed interventi che sembrano essere indicati dal Comitato Tecnico Scientifico in quello che ha previsto come il peggior scenario da affrontare in caso di recrudescenza incontrollata. Scenario che avrebbe dovuto essere contemplato a luglio per essere evitato, sia per quanto riguarda i regolari approvvigionamenti di DPI, non solo mascherine, sia sul versante dell'ottimale dotazione dei posti di terapia intensiva e semi-intensiva, sia con riguardo alla necessità di assicurare altrettanti regolari approvvigionamenti di farmaci e vaccini anti-influenzali, posto che continuate a prorogare lo stato di emergenza delegando ad altri l'adempimento dei vostri compiti. di fatti ad oggi un italiano su tre non potrà essere vaccinato con le dosi pianificate. Logica vorrebbe che per recuperare incredibilità trattandosi di un intervento emergenziale smentiste in questa sede con dati inoppugnabili, dando certezza che tutti gli italiani in adesione consapevole possano eccezionalmente fruire della vaccinazione anti-influenzale. Quale livello essenziale di assistenza in emergenza? Non solo quindi per la profilassi della solita influenza stagionale, ma, se come pare, blando antidoto anti-Covid. Ma anche di questo, volutamente e colpevolmente, vi siete dimenticati. Non c'è prevenzione senza controllo. Ecco perché abbiamo continuato a insistere e insistiamo sulla necessità di potenziare i controlli sia nel pubblico che nel privato e sulla necessità di ricondurre alla normalità tutta quella che è la regolazione degli atti di gestione dei fabbisogni di risorse umane e strumentali nella sanità post-prima emergenza Covid. Vale a dire, superando la logica della gestione commissariale e della remissione al Comitato di decisioni che dovrebbero essere del Ministro. Mi pare che ce ne sia abbastanza, ma vi aggiungo un'altra suggestione. La sinistra che ha fatto della demeritocrazia un suo mantra dagli anni settanta in poi, avendo inventato il diciotto politico e facendo sì che coloro che primeggiavano per profitto dovessero quasi vergognarsene e nascondere il fatto di essere i primi della classe nel segno dell'uguaglianza, anche remunerativa, ha prodotto tali e tanti di quei disastri di cui quest'oggi e questo governo è la prova provata della punta dell'iceberg. Anche quanto stiamo discutendo dimostra che non avete saputo o voluto trarre insegnamento dal periodo già vissuto. Obiettivamente a febbraio, a marzo, ad aprile, un unicum per mettere in campo quegli strumenti atti a fronteggiare con ordinarietà pericoli meno gravi. Non ci soffermeremo sulla capacità di risolvere i problemi, perché la vostra cifra è quella di trasferire sempre la responsabilità ad altri dell'operato. Per cui non sapremo mai se si tratti di debolezza o di vera incapacità. Il dramma è che siete al governo senza una legittimazione, perché siete minoranza nel Paese e se pensate il contrario, allora non c'è nulla di meglio che andare ad elezioni. Perché la compressione sistematica delle garanzie costituzionali richiederebbe almeno una legittimazione da parte di una maggioranza consistente. Il vostro agire sarà pagato ob torto collo dalla totalità degli italiani di oggi e per le prossime generazioni. Ci sembra davvero inaccettabile. Grazie.